Oggi è venuto a trovarci in radio Riccardo Sartoris, il presidente del Movimento Consumatori. Ciao Riccardo, ben trovato. Ciao, grazie Mariella, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Riccardo, mi domandavo perché mai il Movimento Consumatori ha organizzato un'apericena? Cosa avete intenzione di combinare voi del Movimento Consumatori? Ma guarda, l'occasione è venuta perché noi sono parecchi mesi che portiamo avanti il nostro progetto di riqualificazione di Piazza Martiri e della Libertà. Siamo partiti a novembre dell'anno scorso presentando all'amministrazione comunale e alla città questa idea progettuale che nel corso dei mesi si è perfezionata e adesso siamo alle fasi finali. Abbiamo preparato tutta la documentazione relativo al progetto, relativo al capitolato, quindi siamo pronti per depositare in comune la documentazione e volevamo presentarla in maniera definitiva alla città. Allora invece di chiuderci in una sala proiettando immagini, discutendo, abbiamo deciso di organizzare una cena in Via 28 Aprile, proprio di fianco alla Piazza Martiri, dove ci sarà un momento conviviale in cui le persone potranno mangiare dei piatti preparati dai ristoranti della zona e subito dopo facciamo la nostra presentazione del progetto di riqualificazione. Dopodiché ci sarà anche un momento di musica con gli amici del palcoscenico, per cui la serata è una serata anche di divertimento e comunque piacevole. La seconda occasione è invece un'occasione un pochettino più drammatica perché sappiamo che ad agosto c'è stato questo terribile terremoto che ha sconvolto l'Italia intera dal punto di vista emotivo e vogliamo far sì che il ricavato della serata sia devoluto alle vittime e alle zone terremotate. Abbiamo chiesto un contributo di 12 euro per mangiare e quindi avanzerà qualche cosa che abbiamo deciso di lasciare in beneficenza alle zone terremotate. Certo, assolutamente. Dicevi il costo 12 euro. Sì, 12 euro ed è compreso un antipasto, un primo, le penne alla matriciana. Giustamente in onore ad amatrice. Un dolce e poi pane e acqua. Le altre bevande sono escluse, ognuno potrà portarle da casa se lo desidera o anche integrare il menù, portando da casa quello che desidera in una sorta di condivisione di picnic a cielo aperto. oppure i commercianti della zona che abbiamo coinvolto nell'organizzazione e nella predisposizione dei pasti avranno a disposizione le bevande che potranno essere acquistate direttamente. Questo coinvolgimento, anche appunto questo voler coinvolgere anche i commercianti lo trovo molto positivo. Sì, la nostra idea è quella di cercare di coinvolgere il più possibile le persone nella realizzazione di eventi in città e in questo caso la realizzazione di un'opera importante che viene consegnata alla città. Cioè la realizzazione in piazza Martiri di garage nel sottosuolo, con la risistemazione di tutta la piazza sovrastante e anche la ricollocazione dello stadio della Pallapugno in una zona confacente che sarebbe di fianco al palazzetto dello sport, fa sì che alla città i cittadini regaleranno una vera e propria piazza finalmente, non solo un parcheggio come attualmente è, per riqualificare uno spazio che rimarrà comunque pubblico a favore di tutta la città. E così anche abbiamo intenzione di coinvolgere tutti i commercianti, tutti i portatori di interessi per rivedere e ristudiare la vita della città, la partecipazione degli spazi pubblici, perché la gente possa condividere le idee e condividere anche la vita in questi spazi. Andiamo a vedere questa bellissima città, che non è solo la città nuova riscoperta del centro storico, ma è tutta la città, non ci fermeremo a piazza Martiri. Bene, allora con questo noi ti ringraziamo per essere stato con noi, grazie anche per questa bella iniziativa che avete avuto per supportare appunto i terremotati di Amatrice, ci auguriamo che più persone possibile vengano a questo apericena organizzato dal Movimento Consumatori. Grazie Riccardo, alla prossima. Grazie a te Mariela, grazie a tutti e mi raccomando vi aspettiamo lunedì 12 settembre dalle 20 in Largo Barale. Potrete prenotare il vostro posto presso l'Associazione Consumatori, via Carlo Emanuele 34, o presso gli esercizi commerciali di via 28 Aprile o telefonando al numero 335-63-92-676. Grazie.